Il nostro marchio si chiama Due Soli, nasce dall'idea che siamo in due, due creativi, e l'idea di questo marchio nasce dall'amore verso la street art, perché dalla street art, soprattutto dalle vie di Berlino, c'è stata questa passione crescente verso la stencil art, per cui queste immagini metropolitane che in strada però ti portano per un attimo lontano dai tuoi pensieri e ti fanno riflettere. Da lì l'idea di creare una collezione di nuove grafiche ispirata appunto a questo mondo, per cui c'è la donnina in tacchi e taier che si ferma per guardare un ragno, c'è il palombaro che scende con estrema lentezza sul fondo marino, tutte immagini che evocano la lentezza, l'evasione, un momento di interruzione dalla freneticità della nostra vita. Abbiamo creato quindi una collezione di cover, chiaramente cover di iPhone 3, iPhone 4 e di iPad, non può mancare nulla. Abbiamo poi proposto su richiesta di alcuni clienti anche delle t-shirt. Siamo molto contenti, riteniamo che il mondo dell'abbigliamento delle boutique in genere avesse bisogno di prodotti anche di questo tipo e finora sta andando molto bene.